Sono stati eseguiti oggi presso l'hotspot di Verbania i 28 tamponi sui piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Vezzo di Gignese, chiusa per la positività di una maestra al Covid. Le famiglie sono state contattate direttamente dall'ASL per l'esecuzione dell'esame. Ieri l'ordinanza del sindaco sulla sospensione delle attività didattiche, la comunicazione alle famiglie e anche sul sito internet dell'istituto comprensivo Clemente Rebora di Gignese-Stresa. La scuola resterà chiusa per due settimane fino all'8 ottobre compreso. Fortunatamente l'insegnante positiva e di ruolo non ha quindi partecipato alle nomine presso il palazzetto dello sport di Verbania. I tamponi a cura del servizio di igiene pubblica dell'ASL VCO domani è atteso il risultato. Se ci saranno esiti positivi si proseguirà con gli accertamenti nelle famiglie. La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è per l'istituto Rebora prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse scrive nella circolare la direttrice scolastica Serena Ciarino e in via precauzionale e cautelativa invita i membri delle famiglie dei bambini delle due sezioni A e B a porsi in isolamento fiduciario fino ad esito del tampone. La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e gli accertamenti previsti dall'ASL. Si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza conclude la direttrice.